Siamo con Marco Cipriano, fondatore e amministratore legato di SugarFriend SCK Group. Buongiorno Marco, oggi a Milano avete presentato i nuovi obiettivi del vostro piano industriale che prevede una forte crescita dei ricavi e della generazione di cassa. Ci puoi fornire qualche dettaglio? Buongiorno a voi, è difficile raccontare dei dettagli in pochissimo tempo. Sicuramente il nostro piano industriale prevede una crescita organica e una forte presenza di investire nell'industriale. Quello che siamo brevi a fare è quello che facciamo da tantissimo tempo. Lo facciamo sempre in clima sostenibile sia dal punto di vista produttivo che di posizionamento prodotto e stimiamo di così, come ad oggi aver raggiunto grandi traguardi, di raggiungerli anche in futuro. Uno degli elementi chiave del vostro piano industriale è la sostenibilità. Infatti nelle svede che avete presentato questa mattina agli analisti c'è un forte impatto positivo derivante dal super bonus 110% destinato alla ristrutturazione edilizia. Ci puoi fornire qualche dettaglio anche su questo fronte? Assolutamente sì. Per noi il 110% dove sicuramente nel 110% il serramento alla finestra è un sistema centrale. L'abbiamo usato come un'acceleration per creare una cassa più veloce e posizionare SCK come il primo polo industriale di finestre e accessori per la gestione del foro. Quindi riteniamo che il 110% che tra l'altro siamo stati anche i primi a farlo perché partiamo già da lontano 2020 dove a fine anno avevamo già messo a cassetto fiscali diversi milioni di euro. Lo andiamo a tarare ed è una componente sicuramente di accelerazione sul nostro piano industriale sempre però in base alla nostra capacità produttiva che è quella industriale, quello di fare la finestra. Io ritengo soprattutto che il 110% sia stato un cambiamento culturale, un cambiamento epocale perché ha determinato un nuovo modo di pensare alla nostra abitazione e quindi all'esigenza di rendere la nostra abitazione una cassa che ha un valore energetico giusto un po' come l'allenamento che ormai negli anni abbiamo sviluppato mettendo a confronto un settore che è quello dell'automotive. Oggi è difficile comprare una macchina euro zero, si compra una macchina euro sei quando si acquista un appartamento non c'è ancora questo cambio culturale. Il 110% ha iniziato a bullonare questi concetti. Bisogna comprare una casa energetica. Da qualche anno siete quotati al mercato AIM di Borsa Italiana. Stamattina avete annunciato delle importanti novità anche per gli investitori di Piazza Affare. Anche su questo fronte di cosa si tratta? Si tratta che cresce l'azienda, crescono gli obiettivi, cresce la voglia di fare sempre la cosa più giusta e più sana in ottica dei nostri investitori e del nostro core business e quindi sicuramente un passaggio dei mercati regolamentati per quello che oggi il nostro valore di capitalizzazione per le revenue che abbiamo e per i margini delle bide che esprimiamo ritengo sia un posizionamento giusto per correrlo, anche per avere una visibilità maggiore sugli investitori istituzionali e sicuramente ci siamo già da tempo allenando per essere pronti a questa nuova sfida. Abbiamo già affrontato il tema della sostenibilità ma rimane molto importante perché è legato al recovery fund e perché gli investitori sono sempre più alla ricerca di questo tema. La vostra azienda, oltre al core business, su quali altri fronti ha affrontato il tema della sostenibilità? Diciamo che noi esistiamo da quasi un quarto di secolo e da un quarto di secolo abbiamo sempre fatto solo finestre nella nostra vita abbiamo cercato, voglio dire, di crearle, generarle con dei concetti di design cercando di ottimizzare l'uso delle plastiche minimizzando all'interno dei nostri processi produttivi come anche tutti i nostri opifici industriali sono a impatto zero. Da un punto di vista di sostenibilità è una cultura, quindi partiamo proprio dalla cultura da avere questo DNA, questo sangue verde e poi cerchiamo di metterlo in azione su tutte quelle che sono le componenti o le logiche o le controllate del gruppo quindi oggi abbiamo Sugar che produce finestre insieme ad altre aziende del gruppo che completano la gamma lato foro, lato finestre come Ecospace che invece è un general contract il più attivo in Italia, il primo di aver fatto le asseverazioni viste di conformità in ambito condominiale quando era difficilissimo all'epoca portare avanti questi progetti quindi in maniera trasversale riteniamo di chiudere il nostro core business sempre in ottica di economia circolare. Dottor Cipriano, la ringrazio per il suo tempo e buongiorno, arrivederci. Grazie a voi, alla prossima.